La bocca è impastata essendo le 8 e 20 del mattino Da un po' di tempo a questa parte mi era barcaminata un'idea a cui credo di non ottemperare cioè non realizzerò e concretizzerò ciò che avevi in mente in realtà avevi in mente di realizzare un altro tipo di video un jacquus, una requisitoria anche perché alcuni personaggi loschi che io non temo assolutamente, non vedo l'ora di affrontare in viso per sputare loro tutta la verità e per farli probabilmente vomitare ecco dicevo mi sto già perdendo in chiacchiere in diatribe o diatribe in sterili, polemiche, diciamo che non possono portare a nulla vi consiglio il mio libro Dopo la morte che trovate sulle maggiori catene del librario online in cui ho disaminato, disaminai utilizziamo il passato remoto una situazione controversa, scabrosa è uno scandalo come nel film di Polanski jacquus, ufficiale la spia così è divenuto da noi e ho denudato tutto il vero che voleva essere insabbiato i protagonisti sono personaggi e la vicenda verte su eventi realmente accaduti o fantasticati figli, diciamo di ciò che è stato partorito da me in maniera delirante semmai un disturbo delirante, paranoide attestato, poi confutato diciamo da eminenti personaggi psichiatrici sicuramente che effettuarono la diagnosi diciamo un tanto al chilo all'acqua di rose sottovalutando diciamo tutta la situazione per una semplificazione molto alla bolognese trattandosi di personaggi egregi di spicco della Bologna e Bene che forse sono comprati la laurea e hanno adempiuto diciamo per parlare così alla bisogna a quelle che erano le necessità familiari di conservare una tradizione di persone inserite socialmente che volevano inserire altri personaggi in posti non adatte alla loro mente ma come mi vengono sì molti anni fa dovete sapere c'era un ragazzo che voleva vivere per i cazzi suoi anche perché era un genius e ciò mi pare abbastanza incontrovertibile inconfutabile e preferiva diciamo l'onanismo e l'autoerotismo in ogni senso in senso tu cura ma tu ti curi e preso le medicine voleva distaccarsi da quei tane interessati soltanto a discorsi gretti incentrati sulla sessualità più brada carnale personaggi carnascialeschi da carnevale carnevaleschi fanno ridere pensano che sia io a suscitare ilarità generale reazioni divertenti dato che sono molto limitate diciamo limiti strutturali genetici propagati e diciamo ereditati da genitore sicuramente castrati e poi sposati persone che hanno figliato con mogli rincoglionite ma che posso dire e allora non è giusto diciamo denunciare tutto quanto enunciare lo scandalo e affermare testet ostamente fieramente con orgoglio prepotente che ognuno nel nuovo millennio può vivere come gli pare guardare tutti i film con Robert De Niro dalla mattina alla sera scrivere anche il libro Robert De Niro l'intoccabile vari remake letterari di Angel Art Ascensore per l'Inferno nati diciamo in seguito è stato un trauma un evento traumatico di persone diciamo come Harry Angel Detective Internet che poi ritorna e scopre di essere più bello di Johnny Anson ma insomma è una situazione ma com'è possibile e allora cuore angelico tenere tenebre e sanguigno e poi il diavolo un giocattolaio ma anche la satanica Abraham del Fatale Languor tutti i libri che esistono veramente che si differenziano diciamo da questi libri settoriali adatti al manicheismo diciamo di una società che vive secondo norme regolamenti criticati diciamo benissimo da Christian Bale da personaggi di Christian Bale in The Pale Blue Eye l'accademia militare questo militarismo anche culturale e libri formativi tutorial diciamo così istruttivi o distruttivi di quelle che sono le spontaneità le naturalezze insite intrinseche diciamo appartenenti soprattutto alla giovinezza giovinezza che vuole essere subito indirizzata a una sorta di vecchiezza alla contemplazione più stolta ti è piaciuto quel film vai bravo quella tua ora esci quel guadagni 20 milioni di dollare proposito di De Niro quando mi date questo film che devo fare adesso mi inquadro un po' così con la luce sghemba causa De Niro sì mi va di vivere così di cazzeggiare viene inteso così da persone diciamo Miserica Linetti tant'è vero che al governo che abbiamo vincere vinceremo noi uomini e noi donne diventate virili noi non siamo virili veniamo da un migliorigini ma grazie al correggio ci siamo emancipati voglio vivere così voglio darmi un suicidio annunciato voglio di nuovo portare tutta tutta una compagnia di imbecilli idioti compresi i loro genitori che ancora si divertono a combinare scherzi sadici e mi mandano dei video in cui di college di patchwork vestiscono questi slide show con le mie immagini con espressioni un po' così e sotto vi presento lo scemo in tribunale dirò vi presento gli scemi un imbecille un idiota un idio savon che non sa che cazzo fare d'altronde ha subito anche lutti e disgrazie familiari mammi a denunciare ti sto sfidando povero ebete va a commentare anche alcuni video facendo chiaro riferimento a me allusioni perché scrive una volta fallitico poi stefan falottic e beh credo che i carabinieri per quanto si possa scherzare in Italia dove si generalizza un po' tutto e si ridicolizzano a mo' di macchiette alcune categorie lavorative non siano così stupidi da non capire dico a te questo qui si fa chiamare confortabile in ambe un povero imbecille lui e tutta la sua razza avanti avanti sono qui spediscimi non so ci sono vari istituti psichiatrici a Bologna Lottonello è una succursale dicevo dell'ospedale maggiore poi c'è Villa Oleandri Villa Barruzziene sono posti belli e io continuo a vivere come cazzo voglio ti entra nel cervello a te e a tutta la tua razza di teste e di minchie e adesso rincoglioniti di merda ha chiamato uno psichiatra parleremo allora questa medicina e Floxer non si utilizza più aveva degli effetti provocava degli effetti collaterali diciamo che sono stati diciamo poi denunciati questo è Prozac Prozac c'era quel gruppo musicale Prozac più come si chiama Prozac più lei l'ha visto Taxi Driver Taxi Driver quel film non è di De Palma dove alla fine sono Tony Montana non è quello è Scarface capisci Angel Art ho visto un film simile però a Shutter Island con me nessuno ce lo può fare perché ho deciso di vivere così e vivrò così se mi rompete il cazzo me lo rompo io ti chiedere ecco a voi come direbbe il panzone il mio hater commissario Sbirulino che te l'ha ficcato nel buco del culino